Da oggi e per tutto il weekend il Challenger Castel del Monte si farà in due e raddoppierà con il VIP Challenger, l'esibizione riservate ai volti in volti del mondo e lo spettacolo del giornalismo e dello sport. Le special guest del piccolo schermo si esibiranno proprio sul centrale al Palasport di Andia, dove il torneo internazionale ATP di tennis si appresta ad entrare nel segmento finale decisivo. Oggi con i quarti, domani con le semifinali e domenica con la finalissima della prima edizione. Nonostante qualche eliminazione eccellente al primo turno, il bilancio complessivo del Challenger di Andia è senza dubbio positivo, sia per la qualità espressa dai tennisti, sia per la costante crescita del pubblico. Numeroso quello che ieri sera ha assistito al match vinto dal tedesco Dustin Brown, testa di serie numero 3 del seeding contro Roberto Marcora. Il bilancio è sicuramente estremamente positivo, sia per la risposta in temi di partecipazione della città, sia per lo spettacolo offerto degli atleti in campo. A differenza di altri sport, come il calcio, i ragazzi sono molto alla mano, stanno interagendo molto col pubblico, i ragazzi delle scuole che stanno frequentando la mattina il Palasport, è un momento di festa. Sempre nella giornata di ieri intanto hanno abbandonato il torneo altri due azzurri, Stefano Travaglia che aveva eliminato al primo turno Paolo Lorenzi, la testa di serie numero 1, si è arreso allo svizzero Marti, Alessandro Bega invece è stato eliminato dal qualificato irlandese Sorensen. C'è un italiano invece nella finale del torneo di doppio, si tratta di Alessandro Motti che in coppia con il serbo Tosic affronterà nell'atto conclusivo la coppia Oswald-Siderstrom. E ora spazio alle fasi finali del torneo, il meglio è condensato negli ultimi giorni, vale la pena insomma non perdersi lo spettacolo. Come già dimostrato la stagione sportiva di quest'anno e come già quella che stiamo programmando per il 2014, il palazzetto è tornato a vivere di sport ed è al centro lo sport pugliese.